Assolutamente sì, è la dimostrazione che la sinergia e la subspecialità tra le varie branche pediatriche, in particolare la neurologia pediatrica, è vincente. Bisogna implementare la competenza nelle subspecialità, ma la cosa anche molto interessante che si è vista in questa giornata è che c'è stata una sinergia tra la neonatologia e la pediatria. Sono state tesi che hanno abbracciato e sono embricate con competenze di neurofisiologia, competenze di neurogenetica, competenze di neuroepidemiologia e penso che questa sia la strada vincente per creare un vero e proprio team multidisciplinare. Penso che l'Ateneo e il professor Corsello saranno i fautori di ulteriori edizioni.